Un fine settimana di zona arancione e da lunedì il tanto atteso ritorno in zona gialla. In base a quanto stabilito ieri dalla cabina di regia ministeriale, scomparirà il rosso dalla cartina della penisola. Tutte le regioni saranno nel livello più basso di restrizioni, fatta eccezione per Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige, che rimarranno arancioni. La ricolorazione sarà in vigore da lunedì, giorno a partire dal quale in Abruzzo sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente tra un comune e l'altro. Resterà però vietato oltrepassare i confini regionali, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Sarà consentito fare visita a parenti o amici spostandosi verso un'abitazione privata, ma solo una volta al giorno e con un limite di due persone, oltre agli inquilini dell'abitazione dove ci si sta recando, fatta eccezione per le under 14 e i disabili. Ad esercizi nei centri commerciali e mercati sarà imposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, regola questa che non vale per alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole. Da lunedì si potrà tornare a visitare musei e mostre, ma non nei giorni festivi, mentre palestre, piscine e centri benessere rimarranno chiusi. E poi ci si potrà sedere di nuovo al tavolo di un ristorante o al bancone di un bar, ma solo fino alle 18. Dalle 18 alle 22 è consentito l'asporto, ma solo per chi fa cucina e quindi non per i bar. Gli orari di chiusura sono imposti perché rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, misura che resterà in vigore ad Interim. Lo stato d'emergenza nazionale, che consente ai governanti i poteri straordinari, è stato infatti prorogato fino al 30 aprile. Quella del coprifuoco è sicuramente la limitazione della libertà che è meno comprensibile dall'opinione pubblica. Legittimo infatti il dubbio di baristi e ristoratori, che tra difficoltà economiche, scarsi aiuti e aperture a singhiozzo, si chiedono come mai, al calare del sole, il servizio che loro offrono diventa pericoloso e a rischio contagio, mentre negli orari diurni quelle precauzioni, imposte e adottate, consentirebbero invece di lavorare in sicurezza. Chi esce di casa, oltre l'orario consentito, col favore delle tenebre e senza un motivo ritenuto valido, rischia una multa dai 400 ai 1000 euro.